Sant'Antonio Abbate, perché voi sapete che le chiese rurali comunque adoravano Sant'Antonio Abbate per la cultura degli animali, dell'agricoltura e di tutto quanto, e quindi non si riesce a capire tutti i santi che sono raffigurati, in effetti, perché un po' sbiaditi e un po' sconosciuti perché è la nominatura della chiesa, poi si aggiorna, cancella i santi antichi e rimette i santi nuovi, però in effetti bisognava andare a vedere questi, e qua si parla, qui abbiamo un frammento di San Sebastiano, questo è stato rilevato all'ultimo restauro dieci anni fa, San Sebastiano il martirio, sopra questo è un tunnel dal quale saliva il prete dall'altra navata e veniva sul pulpito per fare la predica, voi sapete che in un'epoca il prete per fare la predica doveva andare sul pulpito, come sta al pescovato a sesso, come sta a tutte le chiese, come sta pure al Vaticano, qua in effetti chiesa rurale aveva scavato questo tunnel, qua c'era un preidratio, c'era un solaio di legno e il panico saliva e faceva la predica e poi riscendeva dall'altro lato, qui abbiamo detto, e lì sopra abbiamo tre rappresentazioni, tre icone di santi, Santa Estra, Santa Margherita e San Donofrio, anche questi sono santi che sono usciti fuori dalla nomenclatura della chiesa, nel senso che sono stati superati, i calendari voi sapete già 365 giorni, non ci possono mettere questi santi additi, ci mettono quelli moderni e non li trovevamo sui calendari, però sono santi in tutti gli effetti, San Donofrio lo vedete, è quello che ha i capelli lunghi, non è un vestito, quelli sono i capelli lunghi perché lui dice che doveva vivere naturalmente come Cristo l'aveva creato, e si è mai tagliato gli capelli, ecco perché sembra che siano delle ossa, delle ossa, Santa Estra sta pure a Ponte Corvo, eh? Santa Estra, sì, e Santa Margherita, questa accetta è Santa Margherita, la Santa Estra è quella lì, e questo è Santa Onofrio, oh, per re! Grazie! Grazie! Grazie!